Allora in mezzo, ma che ti schiaccio eh? Ormai cazzo è un asfalto, sì ma io di là non rischio, no mettilo di là Lele, mettilo là contro il ciasso, no vabbè che vabbè, tanto lì non lo prendi perché è troppo, è troppo in qua, devi metterlo là, bravo, perché tanto lì non lo prendi perché qua prendi dentro, qua vedi che prendi dentro la pedivella sennò, beh quasi ci sta dai, ma che scivola, dai un bel colpezzo. bravo dai paura lo fai, eh ci passi, dai il colpettino e basta, vai fai il coniglio predatore, vai vicino al ponte, ho più problemi a tornare che non avrei, ah ecco perché se sbagli lì fai giusto Pietro, vai nel buco, non metterti lì, vai nel buco. ora c'è la pedivella eh. no, ormai vai di lì. buttano al davanti, dopo la tiri su, se no fa come lui. piano. perché devi andare a incastrarla? appoggia solo il davanti piano. bravo, adesso fai lì pian pianino, vai lì, già ti scivola giù dietro poi. dai 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 quest'acqua c'è? vai vai agisci vai da volpina vai da volpe cazzo vai da volpe 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 e qua siamo proprio sotto le case stiamo andando spai indietro stiamo andando mi sa che qua adesso si stringe e basta mi sa che oggi facciamo lo step qua anche perché lì ci sono quelle case quindi non dobbiamo neanche fare